Cucu! Buongiorno! Come ti chiami? Caterina. Caterina, benvenuta a Campovolo, a Reggio Emilia. Stiamo mettendo l'imbragatura, stiamo per andare a volare. Come ti senti? Paura. No, in realtà non andrò. Fa la parte che non si sente nel video, se no. Non la sto realizzando ancora. Va bene, dai allora, adesso ci prepariamo così che lo realizziamo dopo. Vai! Siamo! Siamo! Siamo decollati, Capitano! Sì! Ecco qua, è quello che abbiamo fatto! Siamo! 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 Autore dei sorrisi